E adesso parliamo di Long Covid. In Puglia un paziente su 10 ne soffre ma i servizi per loro sono insufficienti. E questa è la denuncia di Fadoi, la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri. Vediamo. In Puglia tra il 5 e il 10% dei pazienti soffre di Long Covid dopo la guarigione. E' quanto segnala Fadoi, la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, che fotografa anche lo stato di affanno della rete ospedaliera pugliese nel post-emergenza coronavirus. Da questo studio, che evidenzia l'età media dei casi tra i 30 e i 60 anni, emerge che i servizi dedicati per prestare assistenza sono insufficienti. Nei pazienti affetti da Long Covid il sintomo più diffuso è quello della stanchezza cronica, accusata da oltre il 91% dei casi, seguito dalle difficoltà respiratorie, oltre il 62% e la cosiddetta nebbia cerebrale, che rende difficoltoso concentrarsi nelle attività lavorative o di studio e colpisce oltre il 58% dei pazienti. La fine dello stato di emergenza ha fatto emergere criticità come la carenza di personale e le difficoltà organizzative, insieme alla necessità di conciliare i percorsi dei pazienti Covid con quelli non Covid, che coinvolgono personale e posti letto, mettendo così in crisi le strutture sanitarie. È stato calcolato che in media quasi un paziente su 10 è afflitto da Long Covid. Per il presidente regionale Fadoi e direttore di medicina dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, Franco Mastroianni, esiste un problema di smaltimento delle liste di attesa, sia per i ricoveri che per le attività ambulatoriali. I percorsi per la gestione dei pazienti Covid all'interno degli ospedali non sono ancora stati aggiornati, continua, bisogna far convivere i soggetti positivi con i soggetti negativi al fine di garantire assistenza appropriata ad entrambi. L'istituzione di stanze di isolamento, operative solo in alcuni ospedali, potrebbe essere una soluzione, ma devono essere incrementate.